Io e il mio cavallo. Valeria uscì dal box del cavallo di sua proprietà. Al di sopra del capo agitava i finimenti dello stallone. Il sole rimbalzava sul cuoio delle redini e gli occhi di Valeria, la mia lieva, brillavano. Come vedi, signor colonnello, non sfigurerò a piazza di Siena, disse. Io stavo andando a prendere un caffè con un amico e mi fermai. Tu sei brava, risposi, ma è il cavallo che hai comprato a quattro soldi che mi lascia dei dubbi. E qui che sbagli il colonnello, disse Valeria. Perché? Perché io e il mio cavallo ci amiamo. Il viso magro del mio amico sobbalzò. Sul suo viso, un intrico di rughe, gridavano due occhi azzurro chiaro. Le parole di Valeria lo avevano colpito. E perché? chiese sostituendomi nella domanda. Perché l'amore che io ho per lui e l'amore che il mio cavallo ha per me diventerà il talento del mio cavallo che mi farà vincere a piazza di Siena, disse Valeria. In che modo diventerà? chiese il mio amico affascinato. Attraverso lo scambio di amore che si tradurrà nella comune acquisizione di una maggiore abilità, rispose sicura Valeria.